A Fermo Latari ha un prezzo vantaggioso. Il costo della tassa sui rifiuti nella città marchigiana è infatti più basso rispetto alla media nazionale. Per questo è la città in cui costa meno a livello regionale e una delle prime dieci in Italia. Qui mediamente un cittadino paga 206 euro all'anno, quando la media nazionale è di 329 euro, cifra che è aumentata di oltre il 2,5% su scala nazionale. Questo è merito della programmazione, della progettazione della società partecipata a Fermo Asite, quella che si occupa della raccolta dei rifiuti e di tutti i servizi comunali, perché questi servizi efficienti non sono solo limitati alla raccolta dei rifiuti, ma ovviamente allo spazzamento, alla cura del verde, alla cura della spiaggia. Garantiamo in maniera efficiente al cittadino premiandolo anche con tariffe convenienti per le casse di ogni famiglia. Per raggiungere una raccolta differenziata migliore, il Comune sta programmando nuovi sistemi di raccolta destinati ad ogni quartiere, con una tecnica digitale che consentirà di rimuovere la vecchia modalità porta a porta. Questo metodo è partito in via sperimentale a Campiglione e permetterà di vedere la quantità e la qualità della raccolta differenziata. Parallelamente stiamo cercando di combattere i fenomeni negativi come gli abbandoni dei rifiuti, che invece determinano un costo sensibile per l'azienda e quindi per la città. Quindi è una serie di fattori sui quali ovviamente la collaborazione del cittadino ha un ruolo preponderante e sul quale stiamo lavorando. Il dato che emerge fa comunque riferimento ad una media. Cittadinanza Attiva, l'organizzazione che ha promosso l'indagine, ha preso come riferimento una famiglia composta da tre persone all'interno di una casa di 100 metri quadri. Non posso che essere contento, felice. Essendo proprietario del caso sono contento. Io penso che si dovrebbero calcolare anche gli animali e il giardino, di chi ha tanto giardino, che producono tanto immondizia anche i giardini. Io, mia moglie e Luca paghiamo 430 euro. È un furto.